Ciao a tutti, oggi vi parlo di questo prodotto, ovvero il Philips Welcome Bell 300 Si tratta di un campanello wireless, mi ero arrivato insieme al video citofoni il Welcome Iconnet Pro, vi lascio il link in descrizione con la recensione perché è un prodotto veramente molto interessante e molto molto smart ma oggi il protagonista è lui, un campanello wireless è una categoria di prodotti che potrebbe sembrare strana per alcuni utenti che non sono abituati a sentirne parlare perché appunto è sostanzialmente un campanello che mi permette di avere una chiamata senza possibilità di interazione quindi ha delle funzioni che possono sembrare, possono richiamare quelle di un citofono però io non ho la possibilità di parlare tra le due unità il funzionamento e la facilità di installazione sono diciamo i suoi elementi fondamentali prima di tutto vediamo la facilità di installazione perché non richiede nessun tipo di cablaggio semplicemente io all'interno della confezione ho queste due unità oltre a qualche vite da sello o manuale di istruzioni ho questo che è il pulsante di chiamata all'interno del suo case l'unica probabilmente opera di installazione che dovremmo andare a fare è il fissaggio a muro tramite due viti del supporto in plastica il pulsante è IP65 quindi resiste anche all'esterno ed è alimentato da una batteria a bottone si incastra e si posiziona questa invece è l'unità interna, lo speaker questo è alimentato da una tripla batteria di tipo AA e anche questo è possibile volendo fissare la parete tramite questo foro centrale oppure l'avete visto c'è questo bellissimo supporto con una sorta di base magnetica che mi serve qualora voglio semplicemente tenerlo in appoggio su un tavolo, su una superficie oppure perché no posso fissare la parete ma se mi devo spostare, devo andare più lontano e voglio sempre averlo con me lo prendo, lo porro in posizione e magari lo lascio in appoggio è una soluzione il funzionamento è semplicissimo perché arriva qualcuno schiaccia il pulsante suona e poi al termine della suoneria c'è questo feedback visivo quindi doppio feedback sia uditivo che visivo quindi iniziamo a parlare di quello che può fare l'unità sostanzialmente dietro, ve lo dico subito, c'è una porta micro usb che non serve a ricaricare le batterie serve semplicemente a collegare un'unità al computer tramite un software è possibile andare ad installare delle suoniere personalizzate c'è una memoria integrata ma non è esagerata come spazio può contenere, non so, 4-5 canzoni però dipende anche dalla dimensione dei file e poi è possibile andare a selezionare la suoneria da questo pulsante sopra abbiamo tre pulsanti il primo ci permette di variare la suoneria mi faccio sentire qualcuno sono suonerie abbastanza classiche però ok, facciamo l'ultimo in totale sono una decina ok, questo è veramente il campanello classico l'altro pulsante, quello con i tre pallini mi permette di variare il colore questo colore qua quindi abbiamo un blu elettrico un rosso un violetto un verde un azzurrino e un giallo dovremmo essere finito l'altro pulsante invece questo qua è quello che mi permette di stabilire il comportamento ovvero se voglio solo la suoneria oppure la suoneria e poi la luce oppure la luce sul lato invece abbiamo altri tre pulsanti i due palesi sono il più o il meno mi permette di gestire il volume della suoneria questo invece mi permette di impostare una sorta di modalità notte in cui sostanzialmente il citofono non suona il campanello scusate il campanello non suona vi faccio vedere semplicemente come funziona se io lo schiaccio ci sarà un semplice flash e questo mette in standby per tre ore due flash sei ore tre flash nove ore e qua adesso con i quattro flash torno alla modalità normale quindi il funzionamento è veramente molto molto semplice l'installazione altrettanto l'ultima particolarità di questa soluzione del Philips Web Combat 300 è la portata perché come dice il nome ha un raggio di funzionamento di 300 metri e qua magari non è tanto importante la distanza ma il fatto che avere una diciamo garantita una distanza così ampia mi permette magari il funzionamento anche all'interno di ambienti un po' complessi perché sappiamo che quando si parla di onde radio la struttura della casa, i muri portanti eccetera vanno sempre ad abbattere un po' queste portate e quindi avere la garanzia che questo sistema ha comunque un raggio molto ampio probabilmente mi permette di avere una buona copertura anche indoor e questo sicuramente è una cosa di cui tenerne conto si tratta di un prodotto abbastanza economico costa tra i 30 e i 40 euro a seconda del modello perché ci sono delle piccole variazioni vi lascio anche qua il link in descrizione dove potete trovarlo però sicuramente è una soluzione ideale per chi appunto vuole un prodotto veramente molto molto semplice nell'installazione ma anche veramente nel funzionamento io direi che è tutto per questa recensione se vi è piaciuto mettete like, condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti